Buonasera a tutti, come già ha detto la signora Cuba Tarantini, purtroppo io ho dovuto vivere questo dramma nella mia vita che sarà un dramma che comunque non si potrà cancellare. L'unica cosa che posso fare io da padre è per mia figlia sicuramente non abbattermi, andare avanti, insomma chiaramente adesso vorrò giustizia per mia figlia, per questo ho fiducia nella magistratura, fare il suo lavoro, poi io da padre mi sono promesso appunto di poter far sì che il nome di mia figlia ci sia sempre, per questo mi impegnerò, ho dei progetti, ho degli aiuti come sta dicendo la signora Tarantini, comunque questo mio desiderio che porterò a termine lo farò perché vorrò che il nome di mia figlia sia sempre presente. Per il momento ho avuto la vicinanza di tutti, in questo caso della signora Cuba Tarantini mi è stata molto vicina, mi ha invitato a questa occasione, ho ritenuto che fosse necessario che io ci fossi, proprio per ricordare mia figlia. ringrazio il signor sindaco lo stesso che mi è stato vicino anche nei momenti più difficili per me, come appunto è successa la tragedia, la stessa amministrazione comunale, gli assessori, tutta l'amministrazione comunale e anche tutta la comunità, perché tutta la comunità di Uristano è stata presente a questo dramma e comunque questo è il mio dolore. Quindi li ringrazio tutti e farò di tutto, ripeto, per fare in modo che il nome di mia figlia non venga dimenticato. Grazie.